Benvenuto al live in post produzione numero 2, la terza settimana di maggio. Approfitto per rispondere a Michele Proclamato su due domande che mi ha posto via mail sul vederci per fare un'intervista. Ho scritto alcune cose e poi gli dico guarda faccio un live e approfitto per spiegarti meglio perché voglio intervistarti e parlare dei simboli eccetera. Allora la ragione fondamentalmente è questa, io sto realizzando un monumento dedicato alla pace perché nella mia esperienza di artista che è cosciente della realtà e quando diventi cosciente della realtà non puoi non schierarti dalla parte del buonsenso, che può essere chiamata anche bene, buono, positivo, insomma da una parte non puoi non schierarti e con la mia consapevolezza mi sono accorto che l'unica cosa principale, base che è necessaria alla vita di un individuo e di conseguenza all'umanità è la pace concreta dell'esistenza di un essere umano. Pace concreta, non l'idea di una pace, aderire a un concetto di una pace e restare poi nella stessa situazione che da millenni sappiamo come sta andando in questi ultimi tempi, ancora più in maniera drammatica perché beffa della beffa, arrivati a questo fatidico futuro immaginato da ragazzini dove sembrava che i problemi fossero quasi tutti risolti ma sulla buona strada per cominciare a vivere questo famoso futuro fanta scientifico. Adesso ci siamo ed è un dramma perché tutto quello che vede all'orizzonte non è altro che è nero su nero su nero su nero. Per cui per uscire da questa situazione l'unica speranza, l'unica realtà è che uno entri in contatto con la pace che è insita nel respiro, nella vita di ogni essere umano. Se non c'è quella presenza di pace, di pace che è la vita, che è la divinità, tu non ne vieni fuori, sei talmente confuso, talmente depistato, anche involuntariamente o in buona fede. Non per forza chi ti ha detto delle cazzate che ti rovinano la vita l'ha fatto con quell'intento. Magari lui a sua volta ha creduto perché gli hanno passati che erano buone e il risultato è questo qui. Ora, siccome la pace è il punto essenziale e da quando ho cominciato ad avere la fortuna di prendere vantaggio, di sfamarmi perché è una cosa pratica la pace, non è una roba spirituale, la fregatura del fatto che l'essere umano ancora non l'ha conquistata è perché crede che sia una cosa spirituale. Invece la pace è una roba pratica, la devi sentire, abbracciare e non perderla, non dimenticarla nella soffitta, perché questo ha sempre fatto il maestro della conoscenza di se stessi di tutti i tempi, in tutte le epoche ha detto questa cosa qui, da Gesù a Socrate a Mahometto a Krishna a Kabir e tanti altri maestri che neanche io conosco, che però sono esistiti e anche se non hanno lasciato una documentazione, io posso con la mia psiche non riconoscerli, nella realtà sono esistiti e ha sempre fatto la differenza. Allora, siccome mi sto rendendo conto che ho la fortuna di avere questa esperienza che risolve una vita umana e mi sto schierando per dare una mano a far sì che questa cosa si possa diffondere, perché è l'unica cosa che c'è bisogno di mettere in luce, di sottolineare, perché da lì nasce la prosperità, non solo della ricchezza diciamo di avere il fabbisogno materiale di cui si ha bisogno, ma anche quella ricchezza di sentirsi pieni dentro, di aprire la bocca e dire cose sensate, non ripetere a pappagallo cose ascoltate che ti sono piaciute, che memorizzano i tuoi spazi come se fosse la tua sensibilità, la cosa che tu hai scoperto, perché ti manca un'esperienza reale, ti manca il frequentare, il flertare, l'avere a che fare con la pace che hai dentro di te e io è questo che voglio fare Michele. E comunicare una cosa del genere vuole il suo impegno, perché sentirla è molto semplice, starci insieme è molto semplice, raccontarla, raccontarla con i linguaggi che ci sono, con le immagini dell'arte, con tutte queste cose che vengono usate in maniera molto superficiale, da questo modo di vivere alla cazzo in cui siamo infilati dentro. Anche l'arte è diventata commercio, commercio no? Intanto al chilo, vai su, vai giù, come le pere, ma l'arte non è questo e tu Michele credo che lo sai e parlare con te mi servirà come testimonianza, oltre alla voce che io sto dando, basata semplicemente su un'esperienza che non ha, fino a quando ho conosciuto te e poi Carpeoro, non ha mai avuto coscienza di questi simboli, di questi significati come lo so adesso, ma l'esperienza che ne deriva dal conoscere quelle cose lì, grazie a Dio l'avevo già, capito? E intervistarvi e avere queste informazioni, approfondire certi concetti mi aiuterà a raccontare questo monumento dedicato alla pace che io sto facendo dal 1992, perché è un lavoro che dà senso alla mia vita, perché è onesto, è sincero, non sta dicendo una testimonianza che in realtà a me non stava a cuore, a me da quando ho avuto la fortuna di capire che la soluzione, la soluzione del malessere del mio cuore, della mia vita e alla causa di tutti i problemi è dentro di me, no? Il non guardarla mi causa problemi e il guardarla li dissolve, è dentro di me, è così semplice, è così semplice che è impossibile farcela da soli, perché qua c'è un guardiano, un guardiano che ha un compito che gli ha dato il creatore in persona, di depistarti, magari farti anche capire la formula giusta di che cosa vuol dire essere a contatto con la divinità, la formula è perfetta, ma non riesci a penetrarla, a entrarci dentro con l'organo sessuale del tuo capire in quella vagina, in quella vagina di sapere, di conoscenza che riesce a dissetare la sete che ha in quel momento lì. Per cui, Michele, io ti voglio intervistare perché sono convinto che posso avere qualche informazione sul simbolismo, no? su questo Eros che sicuramente era stato usato anche dai praticanti della religione, sì, è diventata una religione, effettivamente, quando Gesù, come tutti i maestri, se ne è andato, non volendo fare nessuna religione, ma al momento stesso aveva vietato che questi scritti che avevano messo giù come appunti fossero pubblicati, nonostante ogni maestro non ha mai voluto la serie traccia scritta che fissasse quello che non puoi fissare, i suoi seguaci da furbi del deserto che hanno fatto, hanno subito fissato. E queste prigioni, questo fissare, ce le portiamo sul gruppone. Ed è giunto il momento di liberarci di queste cose qui. E le informazioni di persone che hanno cominciato ad accorgersi di queste cose, come tu, Michele, tu ti sei accorto a un punto che avevi i tuoi problemi personali, che ti trovai di fronte a questo rosone senza capire niente, però stavi lì. Poi quel capire che non era solo nozioni, era anche un sentire, ha cominciato a metterti in una situazione particolare, che grazie a Carpeoro, che è un bel filone, lo vedo, una bellissima persona, ti ha messo in una situazione dove io percepisco che adesso tu ti stai chiedendo anche un senso maggiore di quello che hai trovato. E chissà che con questa intervista non possa succedere magicamente con l'aiuto reciproco dove, senza volerlo, l'un l'altro, semplicemente testimoniando la sua esperienza, arricchisce chi ci si trova di fronte, no? Senza prendersi nessun merito, né di quello che sai né di quello che sei, perché è semplicemente frutto di una pratica, che la tua attenzione messa in pratica ha dato di conseguenza. Non so se mi sono spiegato Michele, un po' nel mio intento, per il momento c'è il mio gran casino, nel mio YouTube, Facebook, sono tutti pezzi buttati giù così, no? L'ho fatto fin dall'inizio, buttando giù delle cose senza senso, perché apparentemente anche questa esperienza si presenta così, butta dei pezzi che sembra che non abbiano un senso, messi insieme, e invece a un certo punto si mettono insieme. E a me sta succedendo la stessa cosa. Mi auguro il 21 settembre di poter presentare ufficialmente, perché finora tutto quello che c'è sulla Davida non è ufficiale come presentazione del progetto, ufficialmente mi auguro che il 21 settembre, in occasione della giornata internazionale della pace, alla quale io, come partecipante di questa associazione culturale, che ha come scopo realizzare un monumento dedicato alla pace, che è la Davida, la scultura che adesso è a metà strada, diventerà grande come il David, e ci stiamo lavorando con dei tecnici che mi stanno aiutando, voglio fare, mi sono un po' perso, però qui chiudo Michele, perché poi adesso tu mi dirai se possiamo venire insieme a Giuse a farti questa intervista e vedere cosa succede. Se non potrai o non potrà succedere, va bene, la sentirò come la cosa giusta da percepire e andare avanti. Il mio lavoro lo continuerò comunque seguendo, come ho fatto finora, quelle scie invisibili ma che si fanno sentire molto bene. Chiudi il live con una cosa che volevo dire all'inizio sulle donne, perché mi sono reso conto ottimamente, in questa settimana che è passata, che le persone che hanno lasciato in me una considerazione maggiore sono tutte donne, tutte donne, ho avuto a che fare anche con dei maschi, eccetera, però la settimana scorsa ho conosciuto Allegra, che ha avuto il coraggio di entrare dentro e chiedermi cosa c'entrano i cazzi con la pace, eccetera, quindi questo è il punto che mi ha confermato che questo link cazzo pace è fantastico perché ti tiene in memoria il soggetto, la pace. Sai che nella nostra cultura occidentale queste cose non possono stare vicine ma anzi devono essere allontanate perché una è il cazzo del diavolo e invece Dio l'altra è la cosa pura a quale tu devi rivolgerti pezzo di merda che non sei alto perché hai peccato, eccetera, e se fai certe cose Dio allora forse potrà concederti un bricciolino di un qualche cosa. Stronzate e merite al quale basta crederci per prendere la propria vita perché la realtà, la realtà sotto il nostro naso, dal primo vagito all'ultimo che facciamo in questo mondo, è che Dio è completamente lì con noi perché ci dà questo benedetto respiro. In questo respiro c'è la vita e la vita è solo Dio e se io sono vivo sono la testimonianza che Dio esiste e permette a questo essere che non è cosciente di Dio di esistere un momento su questa terra, a fare un gioco, il gioco dell'amore, il gioco della pace perché alla fine fine è tutto un gioco. Mi rendo conto adesso che quello che sta succedendo nel pianeta è quello che io facevo da bambino. Quando si trovava con, oggi si è persa la cosa dei bambini in cortile che giocano, ma io ho avuto questa fortuna. I bambini in cortile giocavano e rientravano in casa a tutti quando faceva buio, l'estate o l'inverno, quando faceva buio e il segnale che si rientrava in casa. E quando erano minuti di giocare ci trovavamo e dicevamo, allora a un certo punto ci schieravano due fazioni di combattenti, indiani, cowboy, ci si trovava al centro del prato e si diceva guerra o pace? E dall'altra parte diceva guerra, guerra, guerra e si trovava le frecce, si faceva finta di morire, bla 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 e alla fine poi dopo si ritornava a casa e si era giocato a fare la guerra. E ci pensavo qualche giorno fa e dicevo, mai nessuno che dice pace? Mi sembra che una volta, mi sembra che una volta, un bambino disse pace e dice come pace? Allora che cazzo facciamo? Dov'è il gioco? La pace non è divertente se ti tirano la mano ed è così effettivamente. Una vita dove amore, tutto amore, tutto amore, è così, è una palla. Ma il creatore Dio ha creato una vita meravigliosa perché è bella la vita ma allo stesso tempo è una lotta estenuante. Ad ogni respiro tu devi stare in lotta perché ad ogni respiro c'è un ladro che porta via la tua possibilità di essere sereno, sazio, pieno di divinità che sa quello che fa e sa quanto puoi essere protetto e quanto essere lasciato andare ad entrare in quel problema lì perché quel problema lì ti fa bene. È una cosa meravigliosa che ho scoperto abbandonando queste informazioni approssimative raccolte e appiccicate, no? Che prima di toglierci ognuno anni, ammesso che c'è la faccia, una di quelle cose appiccicate sulla testa mi diceva che non era possibile. Non era possibile. Non era possibile essere pronti a percepire, essere semplicemente a posto. Non il Dio dell'universo, no? Che ognuno di noi si crede quando la puttanella qui, no? Messa lì dal creatore, perché questa puttanella qui non è un errore. È stata messa lì dal creatore per farti difficilissimo un gioco che è di una facilità enorme. Trova Dio che è dentro di te, dentro di te, davanti di te, sopra te, è ovunque, no? Come fai a non trovarlo? Eppure la puttanella te lo nasconde. Te lo nasconde appunto che tu ti ammazzi se segui quella disperazione lì di sentirti solo di crederci. Ti ammazzi. Ok, allora dai, parlavo delle donne, poi finisco perché sono sempre molto lungo. Ho conosciuto diverse donne e fra queste donne, anche Silvia Aprile, con il quale stiamo facendo delle cose con il 3D insieme a Mattia, che stiamo dando al corpo della Davida, una bella... insomma mi sto preparando al meglio per il 21 settembre per presentarla a Davida come non l'avete mai vista, non perché non sarà mai così, perché come non l'avete mai vista e come io voglio portarla, è la visione che io ho dentro di me, che detta a parole è incomprensibile, fraintendibile e la manchi di sicuro. Facendola vedere con le immagini si parla automaticamente da sola, si spiega benissimo. Qui Silvia Aprile, un'altra persona, un'altra donna che ho conosciuto anni fa, che ultimamente per gioco magico, silenzioso, armonioso della vita, è apparsa e adesso vediamo che cosa può succedere perché dai risultati, dai lavori, poi conosci le persone e vai avanti. Un'altra donna che ho ricontattato ultimamente, che da anni non sentivo, è Ornella Fiorentini, una scrittrice, con la quale stasera se tutto va bene, abbiamo un appuntamento per andare a fare la passeggiata di un'ora che fa parte della sua terapia, così ci parliamo un po' e voglio approfondire un po' alcune cose perché l'avevo un po' catalogata come una scrittrice che più di tanto non mi poteva dare emozionalmente, invece ieri leggendo, no, leggendo per la prima volta una poesia sua, ho detto ah, ah, dammi ne ho osservare il mio, e stasera in questa passeggiata parlando chissà che non succeda qualcosa. Poi altre donne ho conosciuto, no, 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 però un'altra donna che ho conosciuto ogni sera, proprio fresca di giornata, è Paola Candelma, non si chiama, Candelma, che ho conosciuto ogni sera, uscendo col cane il suo bel girettino igienico e ci siamo messi a parlare naturalmente con una, come dire, confidenza, sì, ma anche confidenza, anche se lei ci siamo detti, però lei si è messa a parlare del suo cuore, le sue robe, la sua vita, eccetera, io l'ascoltavo con una certa magia, no, magia, perché così, e poi stamattina venendo qui ho visto, ho scoperto che mi ha chiesto un'amicizia su Facebook, e gli ho risposto e verrà a trovarmi da una persona che a livello di sentire mi prende molto, no, mi prende molto umanamente, umanamente, no, e quando mi prende molto quella voglia di conoscerla, no, perché molte volte finisce lì la cosa, no, è un impulso di sensualità e voler conoscere qualcosa, no, per cui se non mantieni la chiarezza, poi spesso e volentieri, come è capitato nel passato, con quella voglia di conoscere, fai un casino perché, perché poi vai a finire che fai delle robe che non è il caso di fare, perché non è il momento, ma questo, a spiegare che non è il momento, i bambini capricciosi sono direttanti a confronto di lema, però ho visto che col tempo la bestia sta buona e io invece di essere buttato giù, come si diceva sempre una volta, riesco a stare ai cavalcioni, per cui uso anche la sua energia, no, la sua energia, nel senso che, deve essere mandato in vacca tutte le robe, invece adesso è bello vedere che non va più in vacca niente, se non io dico sì, ok, sono d'accordo che la cosa vada in vacca, perché a volte ho anche il piacere di dire, ma sì che vada in vacca un attimo per qualche minuto, una roba, tanto se mi stufo poi ritorno dentro, almeno finora mi è stato permesso di fare così, e non è che ci speccoli, però ci sono delle volte che capita, però come ti perdi in un istante, ti ritrovi, qui finisce il live definitivo, quando dico finisce poi parlo su invece finisco il live, ciao Michele, sono qua, parliamoci se vuoi, io ho un gran piacere di farlo, e donne siete, voi siete le munizioni potenti del creatore, e vi sta sparando la pace, non si affermerà nel mondo senza di voi, e voi sarete fondamentali perché vi dovete prendere cura anche di rieducarmi i moschietti. ma si, a volte perché finirà il live, è finito. Ciao, baci. .